Bentornati, seconda puntata di quella che ho chiamato Gli anni folli di Ennio Morricone l'abbiamo lasciato nel 1965, anno in cui ha composto 13 colonne sonore e lo ritroviamo nel 1966, anno in cui comporrà altre 13 colonne sonore Primo film che vediamo oggi, Sette pistole per i McGregor uno dei tanti film del filone di spaghetti western quindi di western girati mediamente non con dei budget esterminati che però avevano un loro pubblico e regolarmente prendevano molti più soldi di quanti ne venivano spesi Proseguiamo con Svegliati e Uccidi, regia di Carlo Lizzani che praticamente racconta la storia di Luciano Lutring che probabilmente i più giovani ignoreranno ma insomma quelli che sono vissuti negli anni 60 e 70 lo conoscono con l'appellativo che gli era stato dato il solista del mitra, era la storia di un rapinatore che era stato abbastanza famoso in quegli anni la cui storia viene romanzata e raccontata in questo film di Carlo Lizzani Mi vedrai tornare, regia di Ettore Maria Fizzarotti ancora Gianni Morandi, l'abbiamo visto la volta scorsa in ben tre film del 1965 questo qua fondamentalmente prosegue il filone dei film cosiddetti musicarelli Poi passiamo da un film estremamente scansonato, leggero e senza alcun tipo di pretese intellettuale a Pier Paolo Pasolini perché questa è una delle grandi forze di Ennio Morricone abbia bisogno di visto l'altra volta la capacità di saper scrivere musica per film così diversi tra loro il film in questione è Uccellacci e Uccellini con il dimenticabile Totò e Ennio Morricone appunto che firma l'ennesima colonna sonora da un film intellettualmente impegnato a un film storicamente impegnato La battaglia di Algeri di Gilo Pontecorvo che sicuramente viene ricordato come uno dei film più importanti della filmografia italiana Forse meno importante è Un uomo a metà con la regia di Vittorio De Seta sempre ovviamente lo stesso anno, il 1966 Uno in cui film che probabilmente non resterà negli annali comunque sintomo e prodotto di quella meravigliosa industria cinematografica che c'era in quegli anni Un fiume di dollari con la regia di Carlo Lizzani e le musiche non di Ennio Morricone ma di tale Leo Nichols chi era Leo Nichols? Ennio Morricone naturalmente sotto pseudonimi e qui torniamo al tema ne abbiamo già parlato prima del fatto che in certi casi si preferiva dare degli pseudonimi più o meno americaneggianti o comunque di matrici anglosassone probabilmente perché la cosa veniva venduta meglio sul mercato internazionale non riesco ovviamente a pensare a un'altra motivazione tenete presente comunque che Morricone soprattutto nel genere western ma non solo nel genere western era già come dire un grosso nome in quegli anni però inspiegabile ai miei occhi la scelta di uscire sotto uno pseudonimo la trappola scatta Beirut agente 055 allora qui torniamo a quello al filone che abbiamo visto l'altra volta sugli agenti segreti che non potendosi chiamare 007 James Bond per evidenti ragioni venivano chiamati 055 077 777 017 o come vogliamo erano comunque film con un discreto budget una produzione internazionale che evidentemente avevano un loro seguito da un film di spionaggio saltiamo a una commedia come imparai ad amare le donne le regie di Luciano Salce che ormai aveva avuto una collaborazione intensa e continua con Ennio Morricone anche se poi Salce lavorerà anche con altri compositori ma insomma questo è l'ennesimo capitolo della loro collaborazione per pochi dollari ancora la regia di Giorgio Ferroni allora qui c'è un problema su questo film perché in realtà la colonna sonora non ha scritta Morricone ma ha scritta Gianni Ferrio che comunque insomma magari un giorno parleremo anche di lui è stato un compositore decisamente di ottimo livello cosa viene fatto? un'operazione biecamente commerciale su questo film quindi la colonna sonora viene scritta Gianni Ferrio però viene preso un pezzo di Ennio Morricone tra l'altro scritto per un documentario che aveva fatto tempo prima e viene scritto musiche di Ennio Morricone evidentemente per ragioni di cassetta a questa cosa seguirà una causa legale che poi si si troverà la soluzione semplicemente una decina d'anni dopo quindi neanche pochissimo Ennio Morricone attualmente si oppose al fatto che il suo nome era stato utilizzato indebitamente e senza e senza autorizzazione sempre a proposito del fatto che abbiamo detto prima dei nomi cambiati probabilmente sapete che Giuliano Gemma i primi film che faceva da protagonista usciva col nome di Montgomery Wood quindi ancora questi nomi insomma evidentemente anglosassone per probabilmente rendere il prodotto più appetibile sul mercato internazionale in questo film lui esce come Giuliano Gemma tra parentesi Montgomery Wood perché poi sarà il film come dire che segnerà l'abbandono dello pseudonimo per utilizzare sempre il suo nome Giuliano Gemma appunto in tutti i film successivi Navajo Joe regia di Sergio Corbucci e le musiche di chi? di Ennio Morricone? no di Leo Nichols cioè Ennio Morricone ovviamente sotto pseudonimo ancora probabilmente per quella ragione che voleva che un nome anglofono fosse più vendibile sul mercato internazionale in anni in cui comunque Morricone era già Morricone non solo in Italia in cui abbiamo visto nel film precedente insomma c'è stato anche una causa legale perché era stato utilizzato indebitamente il suo nomino con una sonora che non aveva scritto lui ma insomma cose che succedono in questo mercato Le streghe film a episodi con la regia di Pierpaolo Pasolini un film in 5 episodi con le musiche che si vengono divise fra Ennio Morricone e Piero Piccioni altro grande compositore insomma il compositore della maggior parte dei film di Alberto Sordi magari un giorno ne parleremo in una puntata dedicata e chiudiamo col botto il buono il brutto e il cattivo a mio parere la più bella colonna sonora western scritta da Ennio Morricone un capolavoro assoluto che dovete assolutamente andarvi a riascoltare anche se probabilmente vi ricordate il questo insomma anche il verso del coyote incredibile una trovata una trovata geniale vi ricorderete il triello vi ricorderete l'estasi dell'oro una colonna sonora di una bellezza di una profondità di una di una fantasia veramente veramente incredibili che assolutamente dovete conoscere a memoria altrimenti cosa seguite a fare questo canale beh sul buono il brutto il cattivo due parole dobbiamo spenderle più lo scopo di questa serie degli anni folli di anni moricone non è entrare ovviamente nel dettaglio del colonna sonora ma semplicemente farvi una carrellata per farvi capire che anni pazzeschi sono stati allora innanzitutto il famoso uno il coyote quelle due note che normalmente quando moricone faceva i concerti le eseguiva col clarinetto in realtà quando poi erano state registrate erano due voci umane naturalmente in cui praticamente uno diceva la A quindi faceva mentre l'altra faceva la E e questo come dire a simbolizzare la feroce del vecchio del far west e così via poi vi ricorderete naturalmente la scena finale del film quando Tuco a cui viene che viene liberato dall'impiccagione grida sei figlio di una gran puttana quella ovviamente come dire è una di quelle soluzioni che nella versione in inglese non è ovviamente altrettanto altrettanto divertente ma visto che il film è stato scritto in italiano anche se poi è girato in inglese perché ovviamente tutti i film tutti gli attori essendo la maggior parte degli attori americani erano ovviamente stati doppiati ma il film era stato pensato in italiano e poi ovviamente tradotto in inglese ognuno dei tre protagonisti ha un tema o quantomeno una sonorità che li contraddistingue una sorta di leitmotiv se vogliamo è quello di sentenza interpretato da Lee Van Cleef che vediamo in questa foto è l'arghilofono volgarmente detto ocarina che è uno di quelli strumenti che venivano dal momento in cui Morricone aveva già utilizzato in altri film in produzioni più povere diciamo così veniva da quella fase della vita professionale di Morricone che poi però porterà anche in film come questo dove il budget era decisamente generoso non dimentichiamo il famoso stallo alla messicana della scena finale quando tutti e tre praticamente i pistoli si trovano e non si sa chi sparerà chi per primo e chi sarà dalla parte di chi il famoso stallo alla messicana appunto con la scena del triello anche perché considerate che questa scena sono sette minuti di musica senza dialoghi e quindi dove la musica veramente è padrona veramente è protagonista e Sergio Leone che non so se lo sapete ma era stato a scuola all'elementare con Ennio Morricone arriverà come dire a questo film con la piena consapevolezza di aver trovato un collaboratore che in realtà era molto di più di un collaboratore era veramente come dire un autore del film perché poi non so se lo sapete ma per la legge italiana gli autori del film sono quattro e sono il regista il soggettista lo sceneggiatore e il compositore questa è una cosa che spesso e volentieri si tende a dimenticare anche noi compositori spesso ce lo dimentichiamo ma il compositore della colonna sonora è legalmente uno degli autori del film e se non è stato Morricone autore di questi film non so proprio chi mai al mondo potrebbe esserlo chiudiamo qui la seconda parte di questa serie che ho intitolato gli anni fogli di Ennio Morricone non prima di avervi lasciato il link in descrizione alla prima parte qui sotto se siete su youtube e qua sopra se siete su facebook e noi ci vediamo alla prossima puntata non mancate